Con lei mi ha un aumento di peso, il mio simulacrocast è distrutto e non fa rispetto a riscaldare il video del questo. Il mio porto fa il suo alleato, il NER, la riscetta della mia cosa. A giorno voglio approfittare di me, 30% di sconto su tutti i prodotti NER. Grazie a tutti. Grazie a tutti.